E così, tra un indugio e l'altro delle autorità e in mezzo all'atteggiamento superficiale della popolazione, la peste dai paesini della campagna entra, ahimè, nella grande città di Milano. Vediamo quest'oggi l'inizio della sua diffusione e i primi provvedimenti presi dalle autorità pubbliche, tra cui l'istituzione del Lazzaretto. Ecco la lettura di oggi. Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce lo portò il primo e altre circostanze della persona e del caso. E infatti, nell'osservare i principi di una vasta mortalità in cui le vittime, non che esser distinte per nome, appena si potranno indicare all'incirca, per il numero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di conoscere quei primi e pochi nomi che poterono essere notati e conservati. Questa specie di distinzione, la precedenza nell'esterminio, pare che facciano trovare in essi e nelle particolarità, peraltro più indifferenti, qualche cosa di fatale ed immemorabile. Pensate alla similitudine con quello che è accaduto l'anno scorso all'inizio della prima ondata in Italia non solo di Covid. Quando i casi erano pochissimi, erano un numero molto limitato, si cercava quasi morbosamente nome e cognome dei primi contagiati. Già nel Seicento era successa la stessa cosa. L'uno e l'altro storico, cioè Tadino e Ripamonti, dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna. Nel resto non sono ben d'accordo neppure sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Lovato, di quartiere nel territorio di Lecco. Secondo il Ripamonti, un Pierpaolo Locati, di quartiere a Chiadenna. Differiscono anche nel giorno della sua entrata in Milano. Il primo la mette al 22 di ottobre, il secondo ed altre tanti del mese seguente, e non si può stare né all'uno né all'altro. Tutte due le epoche sono in contraddizione con altre ben più verificate. Eppure il Ripamonti, scrivendo per ordine del Consiglio Generale dei Decurioni, doveva avere al suo comando molti mezzi di prendere le informazioni necessarie. E il Tadino, per ragione del suo impiego, poteva meglio di ogni altro essere informato di un fatto di questo genere. Del resto, dal riscontro di altre date che ci paiono, come abbiamo detto, più esatte, risulta che fu prima della pubblicazione della grida sulle bullette. E, se ne mettesse conto, si potrebbe anche provare, o quasi provare, che dovette essere ai primi di quel mese. Ma certo, il lettore ce ne dispensa. Per noi è un dettaglio del tutto indifferente, se il primo caso si sia verificato un giorno prima, un giorno dopo. Non cambia assolutamente nulla per noi. Sia come si sia, entrò questo fante, questo soldato a piedi, sventurato e portatore di sventura, con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni. Andò a fermarsi in una casa di suoi parenti, nel borgo di Porta orientale, vicino ai cappuccini. Appena arrivato, si ammalò. Fu portato all'ospedale, dove un bubbone che gli si scoprì sotto una scella, mise chi lucurava in sospetto di ciò che era infatti. Il quarto giorno morì. Il Tribunale della Sanità fece segregare, cioè isolare, rinchiudere e sequestrare in casa la di lui famiglia. I suoi vestiti e il letto in cui era stato all'ospedale furono bruciati. Due serventi che lo avevano avuto in cura e un buon frate che l'aveva assistito, caddero anch'essi ammalati in pochi giorni, tutti e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo si era avuto fin da principio della natura del male e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più. Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio, cioè una quantità di contagio, che non tardò a germogliare. Il primo a cui si attaccò fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato un Carlo Colonna suonatore di liuto. Allora tutti i pigionari di quella casa furono d'ordine della sanità condotti al lazzeretto, dove la più parte si ammalarono. Alcuni morirono poco tempo dopo, di manifesto, cioè evidente, contagio. Nella città quello che già c'era stato disseminato da costoro, dai loro panni, dai loro mobili trafugati da parenti, da pigionari, da persone di servizio, alle ricerche al fuoco prescritto dal tribunale, e di più quello che ci entrava di nuovo per l'imperfezione degli editti, per la trascuratezza nell'eseguirli e per la destrezza nell'eluderli, cioè nell'evitarli, andò covando e serpendoc, cioè serpeggiando, di nascosto lentamente tutto il restante dell'anno e nei primi mesi del susseguente 1630. Di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualche d'uno s'attaccava, qualche d'uno ne moriva. E la radezza, c'è lo scarso numero, stessa dei casi, allontanava il sospetto della verità. Confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, non ci fosse stata neppure un momento. Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo, era, si chiede eroticamente il narratore, anche in questo caso voce di Dio, vox populi, vox dei, si diceva in latino, deridevano gli auguri sinistri, gli avvertimenti minacciosi dei pochi, e avevano pronti i nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare, con qualunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso. Quindi persino alcuni tra i medici non credono all'esistenza di questo contagio pestilenziale e pensano che sia casi di altre malattie simili. Gli avvisi di questi accidenti, quando pur pervenivano alla sanità, ci pervenivano tardi per lo più e incerti. Il terrore della contumace e del lazzeretto aguzzava tutti gli ingegni. Non si denunciavano gli ammalati, si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti. Da subalterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, si ebbero condannati falsi attestati. Di nuovo qualcosa di simile è successo un anno fa, nei mesi scorsi, con false dichiarazioni magari di persone che in questo modo evitavano di dire di avere il covid. Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciare robe, metteva in sequestro case, mandava famiglie al lazzeretto, così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l'ira e la mormorazione del pubblico, della nobiltà, degli mercanti e della plebe di celtadino. Persuasi, come erano tutti, che fossero vessazioni, cioè privazioni di libertà, senza motivo e senza costrutto. Altra analogia con quello che è successo nei mesi scorsi, ci stanno togliendo la libertà. L'odio principale cadeva sui due medici, il suddetto Tadino e senatore Settala, figlio del protofisico, a tal segno che ormai non potevano attraversare le piazze senza essere assaliti da parolacce quando non erano sassi. Altra analogia col presente o col passato recente, minacce di morte a medici magari famosi, a virologi, quali dicevano no, è una malattia realmente esistente, non è una nostra fantasia. E certo fu singolare, e merita che ne sia fatta memoria, la condizione in cui per qualche mese si trovarono quegli uomini di veder venire avanti un orribile flagello, di affaticarsi in ogni maniera a stornarlo, di incontrare ostacoli dove cercavano aiuti, e di essere insieme bersaglio delle grida, avere il nome di nemici della patria, pro patriostibus, dice il ripamonti. Di quell'odio ne toccava una parte anche agli altri medici, che convinti come loro della realtà del contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I più discreti li tacciavano di credulità e di ostinazione. Per tutti gli altri era manifesta impostura, cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento. Ciò che è spaventoso, rileggendo queste pagine, a vedere come non è cambiato molto nella mentalità di troppe persone, troppa gente comune, dal 600 ad oggi, ahimè. Il protofisico Lodovico Settala, allora poco meno che ottuaginario, cioè che ormai si avvicinava agli 80 anni, stato professore di medicina all'Università di Pavia, poi di filosofia morale a Milano, autore di molte opere riputatissime allora, chiaro, famoso, per inviti a cattedre di altre università, Ingolstadt, Pisa, Bologna, Padova, e per il rifiuto di tutti questi inviti, era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tempo. Alla reputazione della scienza si aggiungeva quella della vita, e all'ammirazione la benevolenza, per la sua gran carità nel curare e nel beneficare i poveri. E una cosa che in noi turba e contrista il sentimento di stima ispirato da questi meriti, ma che allora doveva renderlo più generale e più forte, il pover uomo partecipava dei pregiudizi più comuni e più funesti dei suoi contemporanei. Era più avanti di loro, ma senza allontanarsi dalla schiera, che è quello che attira i guai e fa molte volte perdere l'autorità acquistata in altre maniere. Eppure quella grandissima che godeva non solo non bastò a vincere, in questo caso, l'opinione di quello che i poeti chiamavano volgoprofano e i capocomici rispettabile pubblico, cioè la gente comune, ma non pote salvarlo dall'animosità e dagli insulti di quella parte di esso che corre più facilmente da giudizi alle dimostrazioni e ai fatti. Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, quindi nell'esercizio delle sue funzioni mentre lavorava, principiò, cominciò, a radunarglisi intorno gente, gridando esser lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste. Lui che metteva in spavento la città, con quel suo cipiglio, con quella sua barbaccia, tutto per dar da fare ai medici. Qui sentite proprio i luoghi comuni degli ignoranti dell'epoca. La folle e il furore andavano crescendo. I portantini, vedendo la mala parata, vedendo che la situazione volgeva il peggio, ricoverarono il padrone in una casa di amici che per sorte, per fortuna, era vicina. Questo gli toccò per aver veduto chiaro, detto ciò che era, detto le cose come stavano, e voluto salvare dalla peste molte migliaia di persone. Quando, con un suo deplorabile consulto, cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare come strega, una povera e infelice sventurata, poiché il suo padrone pativa dolori strani di stomaco, e un altro padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei, allora ne avrà avuta presso il pubblico nuova lode di sapiente e, ciò che è intollerabile a pensare, nuovo titolo di benemerito. Cioè, paradossalmente, questo medico, che era stato un grande medico in mille circostanze, una volta nella sua vita fa un grave errore, cioè contribuisce ad una condanna per stregoneria di una povera donna che non c'entrava nulla. In quel caso, essendo la gente molto credulona, credeva alle streghe, lo riabilitano come grande merito, quindi paradossalmente torna ad essere rispettato per l'unico errore che ha commesso in vita sua. Ma sul finire del mese di marzo cominciarono prima nel borgo di Porta Orientale, poi in ogni quartiere della città a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle in segne funeste di lividi e di buboni. Morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, cioè velocissime, improvvise, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici, opposti all'opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese, cioè troppo evidente, per andarne senza, trovarono quello di febbre maligne, di febbre pestilenti. Notate l'ipocrisia di questi medici che pur di non ammettere il loro errore iniziale, cioè chiamarla peste subito, la chiamano febbre pestilenti. Miserabile transazione, anzi trofferia di parole, e che pur faceva gran danno, perché, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere che il male si attaccava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente, fece si risveglia, da un profondo sonno, principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi alle proposte della sanità, detto in termini di oggi, i politici chiedono aiuto ai medici e gli scienziati, a fare eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Chiedeva esso di continuo anche danari per supplire alle spese giornaliere crescenti del lazzeretto, di tanti altri servizi, e gli chiedeva ai decurioni, intanto che fosse deciso, che non fu credo mai se non col fatto, se tali spese toccassero alla città o all'erario regio, cioè allo Stato. Ai decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordine anche del governatore, che era andato di nuovo a mettere l'assedio a quel povero casale, intanto la guerra continua. Faceva istanza il Senato perché pensassero alla maniera di vettovagliare la città, prima che dilatandovisi per risventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi, perché trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione a cui erano mancati i lavori. I decurioni cercavano di fare danari per via di imprestiti, di imposte, quindi le autorità pubbliche aumentano le tasse per avere denaro, per prendere provvedimento, oppure si fanno prestare dei soldi. Pensate a quello che è successo nei mesi scorsi con l'aumento del debito pubblico, ad esempio per fare i ristori, gli aiuti alle persone in difficoltà. Vediamo ora cosa succede nel lazzaretto. Nel lazzaretto, dove la popolazione, quantunque decimato ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, era un'altra ardua impresa quella di assicurare il servizio e la subordinazione, di conservare le separazioni prescritte, diremmo le distanze di sicurezza l'uno dall'altro, di mantenervi insomma, o per dire meglio, di stabilirvi il governo ordinato dal Tribunale della Sanità. Perché fin dai primi momenti c'era stata ogni cosa in confusione, per la sfrenatezza di molti rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza dei serventi. Il Tribunale e i decurioni, non sapendo dove battere il capo, pensavano di rivolgersi ai cappuccini e supplicarono il padre commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco prima, acciovolesse, cioè affinché volesse dare loro dei soggetti abili a governare quel regno desolato. Il commissario, cioè il capo temporaneo di quella provincia di Cappuccini, propose loro per principale, noi diremmo per direttore dell'Azzeretto, un padre felice casati, uomo d'età matura, il quale godeva una gran fama di carità, di attività, di mansuetudine insieme e di fortezza d'animo, a quel che il seguito fece vedere ben meritata. E per compagno e come ministro di lui, un padre Michele Pozzo Bonelli, ancora giovine, ma grave e severo, di pensieri come d'aspetto, furono accettati con gran piacere e il 30 di marzo, notate quanti mesi sono passati dall'inizio dell'epidemia, praticamente 4-5 mesi, entrarono nell'Azzeretto. Il presidente della sanità li condusse in giro come per prenderne il possesso e convocati i serventi e gli impiegati di ogni grado dichiarò davanti a loro presidente di quel luogo il padre felice con primaria e piena autorità. Di mano in mano poi, che la miserabile radunanza andò crescendo, vi accorsero altri cappuccini e furono in quel luogo soprintendenti, confessori, amministratori, infermieri, cucinieri, guardarobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. Il padre felice, sempre affaticato e sempre sollecito, girava di giorno, girava di notte per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, talvolta portando un'asta, talvolta non armato che di cilicio. Animava e regolava ogni cosa, sedava i tumulti, faceva ragione alle querele, alle discussioni, alle lamentele, minacciava, puniva, riprendeva, confortava, asciugava e spargeva lacrime. Qui la figura retorica dell'enumerazione, dell'elenco, dell'elencazione insistita. Prese sul principio la peste, ne guarì e si rimise con nuova lena, con nuova forza, con nuovo impegno alle cure di prima. I suoi confratelli ci lasciarono là più parte la vita e tutti, con allegrezza, col sorriso quasi sulle labbra, felici di morire, in sacrificio, per salvare la vita degli altri. Certo, una tale dittatura era uno strano ripiego, strano come la calamità, come i tempi, e quando non ne sapessimo altro basterebbe per argomento, anzi per saggio di una società molto rozza e mal regolata, il vedere che quelli a cui toccava un così importante governo non sapessero più farne altro che cederlo, né trovassero a chi cederlo che uomini per istituto il più alieni, più lontani, più estranei da ciò. L'autorità pubblica, civile, non è in grado di gestire l'emergenza, si chiede aiuto, sostegno ai fratti cappuccini. Ma è insieme un saggio, una prova, una dimostrazione non ignobile della forza e dell'abilità che la carità può dare in ogni tempo e in qualunque ordine di cose, il vedere questi uomini sostenere un tale carico così bravamente, cioè con tutto questo coraggio, con tutta questa passione, entusiasmo. E fu bello lo stesso averlo accettato, senz'altra ragione che il non esserci chi lo volesse, senz'altro fine che di servire, senz'altra speranza in questo mondo che di una morte molto più invidiabile che invidiata. Fu bello lo stesso esser loro offerto, solo perché era difficile e pericoloso, e si supponeva che il vigore e il sangue freddo, così necessario e raro in quei momenti, essi lo dovevano avere. E perciò, dice il narratore, l'opera e il cuore di quei frati meritano che se ne faccia memoria, con ammirazione, con tenerezza, con quella specie di gratitudine che dovuta, come insolido, per i gran servizi resi da uomini a uomini, è più dovuta a quelli che non se la propongono per ricompensa. Potremmo dire che in questa epidemia del 1629-30 i primi eroi sono per l'appunto i frati Cappuccini, che facevano sostanzialmente da medici, da infermieri, un po' come, specialmente nella prima ondata di Covid, si è salutato giustamente come eroi i medici e gli infermieri attuali. Che se questi padri ivi non si ritrovavano, dice il tadino, al sicuro tutta la città annichilata si trovava, poiché fu cosa miracolosa l'aver questi padri fatto in così poco spazio di tempo, tante cose per beneficio pubblico, che non avendo avuto agito o almeno poco dalla città, con la sua industria e prudenza, avevano mantenuto nel lazzeretto tante migliaia di poveri. Qui l'italiano è un po' complesso anche da leggere. Si dice in sostanza che pur avendo avuto poco denaro dal pubblico, poco aiuto dallo Stato, questi padri, Cappuccini, hanno fatto tutto ciò che sapevano e anche qualcosa di più per salvare e aiutare, più persone possibili. Notate le cifre. Le persone ricoverati in quel luogo, cioè dentro il lazzeretto, durante i sette mesi che il padre Felice ne ebbe il governo, furono circa 50.000, secondo il Ripamonti, il quale dice con ragione che di un uomo tale avrebbe dovuto ugualmente parlare se invece di descrivere le miserie di una città avesse dovuto raccontare le cose, qui sarebbe meglio dire le persone, che possono farle onore. Ci fermiamo qui nella lettura di quest'oggi e lasciamo ad una prossima terza video-lezione la lettura al commento dell'ultima parte di questo importante capitolo 31esimo dei Promessi Sposi. Emergerà una nuova inquietante figura che è quella degli untori, ma chi saranno? Lo vedremo per l'appunto nella prossima video-lezione. Grazie a tutti per l'attenzione e ci si rivede presto per il finale del capitolo 31. Arrivederci!